ehi è senza dubbio la serie del momento la più vista in tutto il mondo sulla piattaforma netflix e si parliamo di squid game con una trama assolutamente coinvolgente a fare da contorno alle storie della serie tv coreana i nuovi episodi sono le straordinarie scenografie dove si muovono i 456 giocatori le scale dove si muovono i giocatori per raggiungere le stanze di giochi si intrecciano e sfidano la gravità e sono liberamente ispirate all'opera relativity dell'artista dell'illusione esce non mancano i riferimenti all'architettura al design come rosa della murale a roga dell'architetto ricard boffil o ancora il mondo fantastico del film degli anni 80 di david uovi labyrinth l'arte e quindi ovunque anche nelle serie tv coreane di successo